Il PM chiede l'archiviazione, ma la persona offesa prepara l'opposizione. È destinata a finire sul tavolo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona la vicenda della morte fetale avvenuta nell'ospedale dell'Annunziata nel luglio 2021. Il sostituto procuratore della Repubblica, Edoardo Mariotti, ha chiesto l'archiviazione per i due medici finiti sotto inchiesta con l'accusa di omicidio colposo. Ma la donna protagonista della tragica vicenda, per il tramite del suo avvocato di fiducia, Vincenzo Margiotta, annuncia sin da ora di opporsi nei termini di legge, per cui si entrà in udienza. La 33enne straniera, residente a Pratola, il 1 luglio 2021, aveva perso la bimba di otto mesi e mezzo che aveva in grembo, a distanza di dieci giorni satti dall'inoculazione del vaccino trivalente. Trascorsi due anni dei fatti contestati, aveva presentato denuncia querela alla magistratura per fare piena luce sulla vicenda. Nella perizia i medici incaricati da PM non hanno rilevato in perizie da parte dei due sanitari finiti sotto indagine. Nello specifico i periti hanno rilevato che il ginecologo ha dato l'indicazione alla vaccino profilassi per la pertosse, come da raccomandazione ministeriale, e il medico vaccinatore ha eseguito il booster, come previsto dalle stesse linee guida, e entrambi hanno rispettato, sempre secondo le risultanze della perizia, l'informativa del novembre 2019, relativa alla pratica vaccinale, nel corso del terzo trimestre relativo alla pertosse. In caso di soggetto non vaccinato, peraltro, non esistono controindicazioni all'utilizzo del booster anche all'ottavo mese di gravidanza, in quanto lo stesso è composto dagli stessi tossioidi per tetano, difterite per tosse. Una conclusione diversa rispetto a quanto riferito, ipotizzato in querela dalla donna, secondo la quale il vaccino non poteva essere iniettato, poiché è mancante ammonte di una vaccinazione precedente. Inoltre, sempre secondo la persona offesa, non si sarebbe proceduto a uno screening vaccinale e all'anamnesi medica prima dell'inoculazione della dose. Il PM ha chiesto l'archiviazione per i due medici indagati, non essendo emersi indizi di colpevolezza. La donna presenterà opposizione, si andrà davanti al giudice.